Oh yeah, don't you come back no more, no more, no more, no more Senti Marisa, tu hai detto e scritto che hai capito di voler fare l'attrice a 8 anni Poi l'incontro con Edoardo Di Filippo, 35 anni di carriera Hai fatto televisione, hai fatto cinema, adesso sei tornata al teatro Però qual è il tuo vero amore? Beh veramente il teatro io non l'ho mai abbandonato Perché anche quando ho fatto la televisione e il cinema Ho sempre ogni due anni fatto una puntata in teatro Perché credo che il teatro sia la forma di spettacolo più autentica E che è più utile per un attore Nel senso che c'è un confronto diretto col pubblico Un rapporto, come dire, di conoscenza, di scambio È una prova, il teatro è sempre una prova Non si sa mai come va a finire Perché quando si fa, alle volte ci sono dei copioni che sulla carta sono straordinari Poi si fanno e non incontrano il parere del pubblico Quindi il teatro per me è la prima vera forma E forse l'unica grande vera forma di spettacolo Beh insomma è da millenni che c'è il teatro Quindi voglio dire è sicuramente una forma di spettacolo straordinaria Marisa, show tutti insieme abbondantemente Come sta andando questa avventura? Questa avventura è splendida Perché è un'avventura che festeggia i miei 35 anni di carriera Quindi si chiama tutti insieme abbondantemente Perché abbiamo messo tutta l'abbondanza della mia carriera La soccosità Quindi c'è un'orchestra straordinaria abbondante Ci sono abbondante ma soprattutto di grande qualità di solisti Poi c'è un corpo di ballo abbondantissimo Perché si chiamano le pagnottelle Le pagnottelle Quindi un corpo di ballo solare Pieno di sorrisi, di forme Poi non è solo corpo di ballo perché sono ragazze che cantano straordinariamente Che recitano, che ne combinano di tutti i colori Poi abbiamo naturalmente un copione che è abbondante Perché è pieno di cose divertenti, drammatiche Diciamo che ce n'è per tutti i gusti E tutti escono felici E ci chiedono spesso bis Quindi siamo tutti molto contenti Sei qui a Palermo al teatro al massimo dal 4 marzo Com'è il pubblico palermitano? È un pubblico silenzioso Molto attento E quindi durante lo spettacolo pensi Mamma mia, gli piacerà lo spettacolo E poi alla fine esplode E diventa un grande È un grande pubblico Un pubblico che ti accompagna Giovanni Zitto Lui fa l'attore Quindi Sì Mocca al lupo Grazie mille, grazie